Presidente Becci, oggi workshop per parlare di imprenditoria, imprenditoria con la Russia da parte degli imprenditori abruzzesi, una situazione non facile anche alla luce dell'embargo. Sì, va ringraziato l'ordine degli avvocati che in collaborazione con Confindustria ha preso in esame un po' quella che è la situazione dei rapporti con questo grande mercato, con questo grande paese. È chiaro che il momento è di una delicatezza assoluta e proprio di questi giorni sono i dati di un crollo del 70% delle nostre esportazioni verso quel mercato. Se penso qui all'Automotive, alla Val di Sangro, che è il bacino più importante che esporta verso quel mercato, è chiaro che è preoccupante. Purtroppo però la situazione internazionale da un paio di anni circa ci ha portato a queste conseguenze di limitazione delle esportazioni. L'augurio che ci facciamo è che prima rapidamente si risolva il rapporto e si ripristino normali contatti commerciali, perché per noi quel mercato, per il nostro paese in generale e per la nostra regione Abruzzo è troppo importante. Noi parliamo essenzialmente di formazione dei professionisti, soprattutto dei giovani professionisti, che sono chiamati ad assistere le aziende che dal nostro territorio si muovono verso i mercati esteri e quindi in particolare oggi del mercato russo, che attraversa un momento di difficoltà, ma appunto nei momenti di difficoltà bisogna trovare le soluzioni per migliorare la situazione.